30 anni di carcere per il boss Vincenzo Galatolo e la richiesta del procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci nel processo che si svolge con il rito abbreviato per il Pizzolungo Quater. Galatolo, boss dell'Acqua Santa, quartiere palermitano, è accusato di essere tra i mandanti della strage di Pizzolungo a Derice, nel Trapanese, in cui il 2 aprile del 1985 rimasero uccisi Barbara Rizzoasta, di 33 anni, e i suoi figli gemelli di 6 anni, Salvatore e Giuseppe. Quel giorno la vittima designata era il giudice Carlo Palermo. Per ammazzarlo era stata sistemata un'autobomba sul ciglio della strada statale. Il giudice stava andando al palazzo di giustizia di Trapani a bordo di un'automobile blindata. Ma tra la sua vettura e l'autocarica di Tritolo c'era quella con la mamma e i due bimbi. Al momento dell'esplosione l'auto della famigliasta fece da scudo alla blindata del magistrato, rimasto soltanto ferito. Ad accusare il boss è stata la figlia Giovanna Galatolo che collabora con la giustizia.